Ciao a tutti io sono Celina Quiñones, lui è Neri Piliu e noi siamo i direttori artistici della Tango Rouge Company. Siamo molto felici che oggi ci troviamo a Taranto, volevamo fare un sacco di tempo a Taranto, certamente ci ha preso nel mezzo la pandemia e niente adesso stiamo andando avanti e siamo molto felici un'altra volta di avere questa opportunità di ballare, a prescindere che fa un caldo incredibile oggi, oggi siamo a 40 gradi ragazzi, ma noi siamo felicissimi che finalmente siamo riusciti a venire a Taranto perché abbiamo rimandato diverse volte e siamo molto contenti di ballare. Questa sera ci sono tanti tangheri della zona per vedere questo spettacolo che è uno spettacolo che parla del tango tradizionale, un poco del tango moderno, faremo anche, ricorderemo anche con i tanghi che facciamo durante lo spettacolo a Piazzolla, ci saranno per il centenario di Piazzolla, ci saranno tanti pezzi suoi perché lui è stato, come dice Neri, un personaggio importantissimo per la nostra cultura, per la nostra vita, oggi già tutto il mondo conosce il tango grazie a Piazzolla, grazie mille a tutti, ciao ciao